che dio sia con voi ciao a tutti da riccardo autore quest'anno al lavica rock 2017 sarò presente il 29 sabato come ospite e sarà una cosa nuova c'è una novità lo annuncio magari adesso praticamente verrò da casa mia via grande sono 15 chilometri di corsa perché io faccio le cose strane e così la maratona per il lavica rock verrà e poi salirò sul palco e suoneremo ci divertiremo un poco mi raccomando quest'anno il lavica è organizzato anche meglio dell'anno scorso non mancate una bellissima iniziativa io adesso ricordo qui questo era il premio dell'anno scorso come vedete si trova nel mio laboratorio dei legni dell'eterna creatività dei ricordi e delle cose belle e niente è stata un'esperienza bellissima quest'anno sicuramente la sarà pure di più e perciò vi saluto mi raccomando venite sarebbe a vostro discapito se non lo fate grazie